Benvenuti in questo nuovissimo video, oggi andiamo a vedere con di nuovo FaceDragon, siamo anche Repower che sta qui in lobby Oggi appunto andiamo a vedere un nuovo XP glitch, ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un bel like e di mettere il codice Supporto un creatore coding gamer 582 e poi premere accetta In questo modo ragazzi volete ricevere skin e altro anche se vi abbonate Poi scrivete il commento con il vostro udd, se avete shoppato davvero vi lascerò il mio nome di Discord e me lo manderete lì Quindi ragazzi iniziamo subito con questo video Ragazzi il codice è 079499021054, quindi fate invio, mettetene i preferiti Ragazzi dopo di che andate a mettere creativa e mettete pronto, quindi ci vediamo tra poco Ok ragazzi perfetto, ora andiamo vicino ad una di queste torrette, mettete il codice della mappa e c'entrate In ogni caso mettete versione 29 che esce scritto anche appunto qui sopra Quindi ragazzi seguite precisamente quello che andiamo a fare Dobbiamo entrare qui Poi Dovete andare proprio qui dove va lui Quindi ragazzi seguite che questo cristo funziona davvero Quindi continuate, andate avanti Quindi dovete andare qui sotto, quindi vi abbassate Uh, un pulsante, interagisci Uh, guardate raga, dagli XP Quindi funziona Ogni volta che premo Wow, posso premere un bot di volte quindi Raga No no, questo è il miglior glitch di sempre Ma tu son grande, Face Dragon Con questo glitch hai superato tutto il mondo Guardate raga Mi sono fatto il livello Ma mica si può essere bannati Quindi raga entrate qui dentro E livellate un botto raga Vediamo fin quanto arriva Siamo a 8000, 9000 XP 10.000, 12.000, 13.000 15.000 Quindi premete all'infinito raga Venite a darà davvero un botto Quindi ragazzi noi ci vediamo al prossimo video Vabbè dopo un poco si toglierà la mappa Ma voi rientrate e lo rifate Quindi ragazzi così è tutto Noi ci vediamo appunto al prossimo da questo pulsante E ragazzi vi saluto Bye Bye